bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi ragazzi tutte le novità delle ultime 24 ore di fortnite le trovate racchiose in questi pochi minuti insieme oggi parliamo di tante cose interessanti tra cui finalmente delle nuove conferme e delle nuove build per la pace che arriverà settimana prossima posso già dirvi che è confermata all'uscita ma vi faccio vedere anche tutte le statistiche del nuovo fucili a pompa il western shotgun non mancherò però anche di mostrarvi una roba davvero incredibile che è stata trovata nei file di gioco prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che stanno mettendo un like in questo momento al video e tutti quelli che utilizzano il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi e si tratta di nuovo della skin halo il master shift chiamato così in inglese ieri è stato posticipato lo shop perché c'erano i game awards spero che li abbiate guardati per ottenere per aver ottenuto il regalo dovrebbe essere stata la copertura se non ricordo male e oggi nello shop se andrete a guardare ci sarà la skin di halo insieme alla skin che si chiama master shift outfit with back bling ovviamente arriverà l'unsc pelican glider quindi il deltaplano l'ail warthog emote quindi un'emote dedicata e il gravity hammer che dovrebbe essere proprio il suo piccone il tutto dovrebbe essere in un bundle da 2000 rotti vbucks questo video registrato prima dell'uscita dello shop ma andate a dargli un'occhiata e sicuramente lo troverete e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché vi ricordo che ieri era giovedì e il giovedì escono le sfide settimanali che sono un pochettino diverse questa season rispetto a tutte quelle che ci hanno abituato a vedere nelle stagioni precedenti questa è una mappa che vi indica i tre punti dove potrete trovare i tre pezzi di auto la prima fase in poche parole di una delle sfide è molto curioso il fatto di dover trovare dei pezzi di auto perché si comincia a vociferare nei vari forum dedicati a fortnite che le sfide che stiamo facendo e che faremo potrebbero ricondurci ad una storyline oppure alla storyline della season quindi intanto vi faccio vedere con precisione i punti dove troverete appunto le parti che ci interessano qui siamo a parco pacifico nell'angolino dove c'è la cassetta delle lettere qua siamo invece al lago languido lì in basso c'è l'ingresso in poche parole mentre come ultima foto siamo vicino al piccolo box che c'è a siepi da grifoglio davanti praticamente andando verso il mare alla destra c'è il benzinaio questo è per farvi capire un pochettino la posizione quindi mi raccomando fate le sfide perché sono 283 mila punti esperienza e vale davvero la pena di dedicarci un po di tempo anche perché livellare in questa season risulta molto molto difficile in quanto il grande problema che tutti stanno riscontrando è che non esistono le schede punti quindi uno non si concentra più a fare i punti per livellare ma si concentra semplicemente nel gioco è una nota che io trovo negativa spero che facciano qualcosa anche se ho i miei dubbi quindi se ci sono punti esperienza ragazzi prendeteli e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché finalmente arriva una delle belle notizie dedicate al winter quindi al natale all'inverno fortnite ci conferma con questa immagine che anche quest'anno ci saranno dei regali per tutti noi per festeggiare il natale e con precisione the epic game store holiday sale is back on december 17 quindi il 17 dicembre ci saranno 15 giorni di giochi completamente gratuiti disponibili nel nel fortnite store quindi quello che potrete andare a vedere prima di entrare su fortnite ho sbagliato l'epic game store se vogliamo essere precisi each game will be free to claim for just 24 hour quindi mi raccomando ragazzi guardate ogni giorno dal 17 dicembre perché dura solo 24 ore la promozione del videogioco gratuito quindi vale davvero la pena portarsi a casa come sempre qualcosa a gratis andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché già ieri vi stavo anticipando l'arrivo del nuovo fucile a pompa non abbiamo ancora idea in realtà quando verrà inserito in game ma l'immagine presente nel trailer dove infatti la skin quella di pancake imbraccia questo strano fucile ci dà la conferma che arriverà tra l'altro in un video di qualche giorno fa vi avevo anche anticipato l'arrivo di un sacco di armi esotiche che sono state scoperte nei file di gioco e che arriveranno nel corso della season per adesso però abbiamo finalmente dei dati quindi la conferma dell'arrivo di quest'arma in game upcoming western shotgun better spread than gold pump faster fire rate and bigger clip but lower damage and slow reload fa un pochettino più male in poche parole ma è molto più lento infatti lo vedremo in due rarità la rara e la epica spread 0 75 fire rate 0 5 la dimensione del caricatore sarà di 6 colpi il danno in body 85 89 ovviamente in base alla rarità il danno in testa 170 178 ma ragazzi guardate il tempo di ricarica 9 secondi per la variante epica 8,5 per la variante leggendaria un qualcosa di abbastanza incredibile già io mi rifiuto di utilizzare il fucile a pompa e porca miseria non ho messo lo spazio e siamo già arrivati ad una roba incredibile che è stata trovata nei file di gioco mannaggia a me che schiaccio i tasti e sbaglio a schiacciarli ragazzi nei file di gioco sono state trovate queste cose che ovviamente sono dedicate a spongebob ora ora io non so perché il signor patrick sembra sotto l'effetto di stupefacenti né perché il granchio è un pochettino ambiguo non ho assolutamente idea di cosa cavolo stia entrando nella testa degli sviluppatori di ep games ma è molto probabile che troveremo un cross con un crossover con spongebob sappiamo che questa season dovrebbe essere caratterizzata come già hanno anticipato con delle collaborazioni veloci ma importanti abbiamo anche visto un sacco di skin dedicate anche della disney che stanno per uscire e allora aspettiamoci probabilmente anche come uno dei primi questo quello di spongebob insomma ragazzi io anche per oggi ho terminato le news vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video mi raccomando il pollicione in su ragazzi non vi dimenticate di schiacciarlo lasciate un like noi ci vediamo alle 8 in live su twitch ciao